Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter e naturalmente oggi parleremo come promesso della nuovissima e discussissima edizione 2021 di Harry Potter di Salani realizzata da Michele De Lucchi e ragazzi ne parleremo in modo approfondito. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling utilizzando il mio codice sconto 7 Potter avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri e naturalmente il mio codice sconto è cumulabile con tutte le offerte in corso sul sito. Trovate il link in info box e sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon realizzata in collaborazione proprio con Amazon dove ho inserito tutti i prodotti potteriani che ho recensito qui sul canale ma anche tantissimi altri prodotti sia di Harry Potter che di altri fandom e naturalmente troverete anche i libri di Salani tutti linkati sotto in info box all'interno della mia vetrina. Ma detto questo ragazzi direi di cominciare con questa discussissima nuova edizione edizione che io vi dico già amo tantissimo a me piace tantissimo molti purtroppo non l'hanno secondo me capita a molti non piace ma a me come anche a tanti altri mi fa impazzire a me piace davvero tantissimo e la trovo un'edizione davvero matura E ragazzi intanto io vi direi già di soffermarvi sui colori di queste coste. Questi colori hanno un significato ben preciso e vi giuro che esposti in libreria sono davvero una goduria per gli occhi. Inizialmente quando ho visto le prime immagini delle copertine in digitale mi sono piaciute ma non ero convinto al 100%. Una volta presi tra le mani ragazzi vi dirò che a me hanno convinto assolutamente ma intanto parliamo di Michele De Lucchi. Questa è la seconda edizione che è stata realizzata appositamente per l'Italia. La prima è praticamente la primissima edizione uscita in Italia. Quella che io personalmente mantengo gelosamente nella mia libreria perché è quella che acquistavo ogni volta che veniva rilasciato un nuovo libro di Harry Potter. Quindi la primissima edizione realizzata in Italia con le copertine italiane. Successivamente tutte le altre edizioni di Harry Potter da quella Castello a quella dell'anno scorso sono tutte edizioni internazionali poi adattate anche per l'Italia ma con illustrazioni internazionali. In questo caso per la seconda volta praticamente in vent'anni viene realizzata una nuovissima e esclusivamente per il mercato italiano edizione di Harry Potter, di tutti i libri. Quindi già questo secondo me è un valore aggiunto a questa edizione. Ma andiamo per i gradi. Chi è Michele De Lucchi? Michele De Lucchi è un pluripremiato architetto e designer. Ha realizzato opere in giro per tutto il mondo ed è a tutti gli effetti una grandissima eccellenza italiana. E Michele De Lucchi fa parte del movimento architettonico radicale. Che cosa vuol dire? È un movimento anticonvenzionale. È un movimento che dà priorità alla forma artistica più che alla forma classica. Quindi quando vedrete un'abitazione, una struttura abitativa realizzata da De Lucchi sicuramente sarà più da guardare dal punto di vista artistico e concettuale che non da quello del semplice uso finale di abitazione. Quindi è appunto molto più concettuale, molto più artistico il senso delle opere di De Lucchi e infatti lui si definisce principalmente un designer. E ragazzi vi dirò, a me è piaciuto tantissimo questo azzardo che Salani ha voluto fare perché non è andata sul sicuro facendo realizzare le illustrazioni ad un'illustratrice per libri per ragazzi che avrebbe sicuramente fatto un buon lavoro ma non avrebbe fatto sicuramente parlare così tanto come questa edizione qui. Perché Michele De Lucchi non è che ha disegnato queste copertine. Michele De Lucchi ha preso le sue opere, le ha contestualizzate per queste copertine, ha curato il suo studio, ha curato la grafica di queste copertine ma i disegni sono di Andreas Rocha che è appunto un disegnatore, un artista che è stato scelto da De Lucchi per riportare su carta la sua visione, quello che voleva trasmettere con le sue copertine. E secondo me è stato un connubio davvero ben riuscito. Cominciamo adesso a guardare questi libri assieme uno per uno. Il primo è naturalmente Harry Potter e la pietra filosofale e troviamo questa copertina qui con questo castello che naturalmente è il castello di Hogwarts. Questo castello qui non è altro che un'opera di Michele De Lucchi che è stata integrata all'interno di questo paesaggio nevoso e si tratta della scultura Eby del 2016 e praticamente lui ha integrato questo suo pezzo all'interno di Harry Potter e la pietra filosofale immaginando che fosse il castello di Hogwarts. E naturalmente questa è la visione di Michele De Lucchi di Hogwarts. E ragazzi un'altra cosa da notare in questa copertina è il cielo. Il cielo è quello della primissima mattina. Troviamo Harry e Hagrid di spalle che guardano il castello di Hogwarts e Edvige in volo. Non sappiamo esattamente a quale parte del libro si riferisce. Io presumo a quella dedicata al Natale, quindi alla parte dove Harry passa le festività natalizie a scuola e quindi magari si trova nel bosco, nella foresta proibita con Hagrid e sta guardando il castello da lontano di prima mattina. Mi piace immaginarlo così. Ma tenete bene in mente il cielo di questa copertina perché il cielo è uno dei fili conduttori di queste copertine di Harry Potter assieme alle strutture, alle architetture di De Lucchi. Quindi ragazzi, prima mattina, Castello di Hogwarts, che altro non è che l'opera Abby del 2016 di De Lucchi. Una cosa che hanno contestato tantissimi, e non ne capisco davvero la ragione, è il font Harry Potter. Intanto i font sono così metallizzati e a me piacciono tantissimo, è il rilievo, è la copertina, è soft touch, ha quella sensazione di gommato sotto le dita che a me piace tantissimo. E questo font è stato criticato perché non è quello dei film, detto in parole povere, non è quello con la saetta che va a riprendere appunto il font di Harry Potter, quello lì proprio di Warner Bros. In questo caso è un nuovo font, che a me piace molto, non mi dà assolutamente fastidio, e poi tutti si sono stupiti di questa cosa del nuovo font, ma un font diverso, un nuovo font, è stato utilizzato praticamente per tutte le edizioni passate di Harry Potter. Se andiamo a togliere la prima edizione, forse qualche altra, nel 70% delle edizioni precedenti di Harry Potter non viene utilizzato il font di Warner Bros. Quindi sinceramente non capisco perché tutto questo stupore. Nel cambiamento di font in questa edizione, che secondo me ci sta benissimo, è un font che è stato realizzato apposta per questi libri da uno studio grafico svizzero. E ragazzi, secondo me è davvero elegantissimo, mi piace anche tanto la forma della Ypsilon. E poi è stato criticato anche il fatto che la giustificazione del sottotitolo, cioè del titolo, questo qui è la pietra filosofale, è la camera dei segreti, non è sempre giustificato allo stesso modo, ma secondo me purtroppo hanno dovuto fare dei compromessi, come hanno detto anche molti altri prima di me, per poter utilizzare questa formula del dividere il titolo a destra e a sinistra della coda della Ypsilon. Quindi, anche se non è giustificato sempre uguale, a me sinceramente non dà fastidio. E altra cosa, altra piccola chicca, è il fatto che sulla costa abbiano utilizzato i numeri romani per numerare i libri, e questa è la prima volta che accade in un'edizione italiana. Quindi, prima mattina, Harry Potter pietra filosofale. Adesso passiamo a Harry Potter e la camera dei segreti. Ed eccolo qui. In questo caso, ragazzi, vi faccio notare il cielo. Il cielo è già leggermente più azzurro, quindi non siamo più in primissima mattina, quindi, diciamo, poco dopo l'alba, ma già ci troviamo a mezza mattinata. Io azzarderei un undici e mezza, mezzogiorno. E qui, ecco che troviamo la Tana. Questa volta la Tana è tratta da un'altra opera di De Lucchi, che è La Catasta di Legna, del 2017, che è esattamente uguale a quella che vedete qui sulla copertina di Harry Potter, però sono state aggiunte delle finestre. Sono state aggiunte delle finestre e molti hanno criticato questa scelta perché hanno associato questa immagine ad una baita di montagna, però, secondo me, l'idea, comunque, dietro alla Tana, è quella di una casa pericolante che sembra cadere a pezzi da un momento all'altro, e io direi che l'aggiunta di tutte queste finestre, del doppio tetto, che è uguale a quello dell'opera di De Lucchi, secondo me rende comunque bene l'idea della Tana. E, ragazzi, come vi dicevo, il cielo. Il cielo, in questo caso, è di qualche ora più avanti rispetto a quello del primo volume, e sarà così per tutti i libri, fino ad arrivare al settimo. In questo caso, ecco che abbiamo qui in primo piano quelli che sembrano essere Harry, Ron e i gemelli Weasley, e poi un altro dettaglio che ho da aggiungere su questa copertina, ma che vale anche per quella precedente e per le successive, è che i personaggi ritratti sulle copertine sono sempre di spalle. Anche questa è una scelta, ovviamente, di De Lucchi, e credo che sia stata fatta appositamente per puntare l'attenzione sulle strutture architettoniche, come se i personaggi guardassero sempre verso queste strutture. E devo dire che a me questa copertina non dispiace neanche. L'unica cosa che mi dispiace è che è l'unica delle sette copertine che sulla costa non presenta il cielo, ma è ricoperta da alberi, e quindi interrompe quella progressione di colori che vanno dall'azzurro più tenue fino al blu notte. È stato un peccato perché, fosse stata questa qui di azzurro, sarebbero state ancora più belle da vedere in libreria. E, naturalmente, come vi dicevo, questo è il numero due ed è in numeri romani. Poi passiamo al terzo volume. Harry Potter è il prigioniero di Azkaban. Ed eccolo qui, anche lui, tra le mie mani. Questo è uno dei miei preferiti, assieme a Harry Potter e i Doni della Morte, che vi mostrerò più avanti. E, ragazzi, come potete vedere, in questo caso il cielo è ancora più avanti, più in là nella giornata, e direi che lo possiamo posizionare come primo pomeriggio. Siamo quasi sul momento del tramonto, ma ancora non ci siamo arrivati. In questa copertina spicca questa struttura al centro del mare e, naturalmente, non può che essere la prigione di Azkaban. Vediamo anche i dissennatori svolazzare qui attorno e poi qui davanti, sulla scogliera, troviamo Sirius Black, quello che, secondo tutti, è Sirius Black, e anche, secondo me, a dire il vero. E in molti si sono lamentati del fatto che Sirius abbia in mano la bacchetta, perché non lo trovano coerente con la storia, perché quando fugge da Azkaban sotto forma di Animagus non dovrebbe avere una bacchetta. Ma questa, diciamo, questa cosa qui ha una spiegazione un po' più profonda. Intanto partiamo dalla struttura qui al centro, che altro non è che lo studio, diciamo, è una struttura che esiste davvero, è stata realizzata in miniatura da De Lucchi e poi utilizzata per la costruzione dell'hotel Medea che si trova negli Stati Uniti, che ha proprio questa forma qui che vediamo utilizzata per riportare qui su carta Azkaban. E a me piace davvero moltissimo. Secondo me potrebbe tranquillamente essere la prigione di Azkaban, così, senza finestre, che mi dà questa sensazione di una struttura un po' claustrofobica, come può essere appunto una prigione, come può essere anche stare dentro una prigione, soprattutto come Azkaban. E poi si trova in mezzo al mare, su una scogliera, quindi io proprio su questa copertina credo che ci sia davvero ben poco da attaccare. Ma adesso passiamo al personaggio qui di spalle, che è Sirius Black, e al perché probabilmente tiene una bacchetta tra le mani. Questa copertina è fortemente ispirata al quadro Il Viandante sul mare di nebbia, di Friedrich. E ragazzi, come potete vedere col quadro, mettendolo a confronto col quadro, è molto molto simile la composizione dell'opera e il protagonista del quadro dell'opera pittorica ha tra le mani un bastone. E quindi, in questo caso, credo sia stata messa in mano una bacchetta a Sirius Black, proprio per richiamare ancora di più questa similitudine, questo richiamo a quest'opera di Friedrich. Quindi, secondo me, sta tutto lì. Non è voler andare ad aggiungere qualcosa alla storia o ad andare a cercare il pelo nell'uovo perché Sirius non aveva la bacchetta tra le mani. È semplicemente stata aggiunta per richiamare ancora di più quell'opera dal quale si è fortemente ispirato Andreas Rocha per realizzare questa copertina qui. Quindi, secondo me, anche in questo caso, ho pochissimo da contestare. Mi piace moltissimo l'utilizzo dei colori, del cielo. Io la provo assolutamente. E adesso andiamo ancora avanti perché c'è molto di cui parlare e passiamo a Harry Potter e il calice di fuoco. Il mio libro preferito in assoluto. Eccolo qui, ragazzi. Questa volta, come potete vedere dai toni della copertina, siamo al tramonto. A tutti gli effetti siamo arrivati all'ora del tramonto e questa volta in copertina troviamo la partita della Coppa del Mondo di Quidditch. Abbiamo qui nella parte bassa lo stadio e poi queste strutture che sono gli spalti del pubblico a forma di colonna. Forse qui dietro si nota meglio questa colonna che altro non è che un'opera realizzata sempre da De Lucchi in occasione dell'Expo di Milano e quest'opera si chiama Icons. E, ragazzi, è stata riadattata come tribuna, come spalti della Coppa del Mondo di Quidditch. Anche in questo caso tutti i protagonisti sono di spalle, non vediamo nessuno in volto. E una cosa che ci tenevo a sottolineare è che molti si sono soffermati sul fatto che nelle copertine è sempre presente un personaggio volante. E questo è vero fino a un certo punto, cioè fino al quarto libro, perché nel primo libro troviamo il Vige in cielo, nel secondo degli uccelli, nel terzo i dissennatori, nel quarto troviamo qui i giocatori sulle scope che stanno disputando la partita della Coppa del Mondo, ma questo dettaglio poi si perde negli ultimi tre volumi, quindi secondo me non è tanto un filo conduttore delle copertine perché si interrompe a questo punto. Magari è stata una coincidenza, però non credo fosse voluto fino in fondo. E, appunto, come vi dicevo, questo qui è il volume che viene posizionato nell'ora del tramonto. Anche in questo caso il titolo è cangiante, è un po' più bronzato, che nella copertina digitale non rendeva tantissimo perché era molto tono su tono, ma invece, così, dal vivo, devo dire che è molto, molto bello. E poi, ragazzi, la copertina mi piace tantissimo, l'illustrazione è molto, molto bella. E queste illustrazioni non sono molto dettagliate, non sono molto rifinite, ma sono un po' come se fossero dei quadri. Sembrano quasi dipinte ad olio, in digitale, ma questo è stato voluto dallo stesso De Luce e dal suo team perché non volevano che le immagini fossero ben definite, ben bordate, contornate, tutte con dettagli minuziosi, ma volevano proprio che fosse così pastoso, così, un po' non definito pienamente il lavoro complessivo. E a me piace, piace davvero tanto. E adesso ci spostiamo ancora avanti e passiamo all'ordine della Fenice. Questa volta, toni un po' più drammatici, troviamo questa copertina rossa, con questo rosso dato naturalmente da questa lanterna qui fuori e il cielo è definitivamente notturno. è calata la notte, è calata la sera a Hogwarts e qui abbiamo questa struttura che è stata fortemente controversa ma che, vi ripeto, a me continua a piacere. In questo caso, si presume debba essere la capanna di Hagrid. Non abbiamo la certezza, ma si deduce che sia così anche perché qui, nel retro della copertina, se ingrandiamo l'immagine, troviamo la foresta proibita e troviamo anche Aragog. Quindi dovrebbe proprio essere la capanna di Hagrid. Anche in questo caso, personaggi di spalle, abbiamo Erron e Hermione di spalle e questa capanna così sproporzionata che potrebbe benissimo essere la casa di un mezzo gigante, ma è una capanna senza finestre che sembra quasi fatta di paglia, così a guardarla, con questa piccola porta che è naturalmente sproporzionata rispetto all'altezza del tetto. Ma, come vi dicevo prima, le opere di De Lucchi sono più artistiche, più da vedere dal lato punto artistico. E questa è l'opera che si chiama Fienile 324 ed è un'opera del 2013. E vi dirò la pura verità. Probabilmente, tra le sette copertine, questa è quella che anche a me piace un po' meno, ma assolutamente io la promuovo in ogni caso perché è coerente con tutte le altre precedenti, è coerente con le opere di De Lucchi, con il cielo che continua a progredire nelle ore, i personaggi di spalle, quindi la trovo assolutamente coerente e poi, per mio gusto personale, magari non è tra le mie preferite. Ce ne sono altre che secondo me sono molto più belle. E adesso passiamo alle ultime due e passiamo a quella del principe mezzosangue. Eccola qui anche lei in tutta la sua bellezza. In questo caso abbiamo questa struttura, questa sorta di torre con delle scale all'interno e vediamo qui di spalle Piton che si, diciamo, accinge a salire queste scale. In questo caso, ragazzi, è giunta la notte. è giunta la notte e ci troviamo in esterno, quindi in una delle torri di Hogwarts, probabilmente sta a simboleggiare quella di astronomia, e questa torre si basa su Object 4 del 2011 di De Lucchi, naturalmente. Su questa copertina si è detto moltissimo, naturalmente continua ad essere coerente col personaggio di spalle, con l'opera inserita all'interno della copertina, l'opera di De Lucchi, col cielo che progredisce nelle ore anche in questo caso, è stata molto controversa perché, secondo molti, questa copertina è un potenziale spoiler perché il principio di mezzosangue, come sappiamo, è Piton e quindi eccolo qui di spalle che sale sulla torre. Quindi, effettivamente, sì, potrebbe essere un potenziale spoiler, però non so fino a che punto oggi si possa parlare di spoiler parlando di Harry Potter anche perché i film vanno in onda a ripetizione tutto l'anno, praticamente, due o tre volte l'anno in TV. Tutti abbiamo i DVD, si trovano sulle TV a pagamento, i libri sono in commercio, ragazzi, da più di vent'anni, quindi, secondo me, parlare proprio di spoiler è un parolone. Si sarebbe potuto evitare di metterlo in copertina? Probabilmente sì, ma secondo me non è un grosso problema a meno che qualcuno totalmente digiuno di Harry Potter oggi si vada ad approcciare i libri, vada a spendere una cifra anche considerevole per acquistare una nuova edizione di Harry Potter senza aver mai letto neanche il primo libro, senza conoscere il personaggio. Oggi credo che tutti più o meno sappiano cosa sia Harry Potter, quale sia per grandi linee la trama e probabilmente vi ripeto non è un grosso problema anche perché secondo me ormai queste nuove edizioni sono più rivolte a un pubblico di collezionisti, di appassionati, di gente come me che ha acquistato i libri quando uscivano anno dopo anno in libreria e ancora non erano tutti disponibili. Quindi secondo me per i bambini ci sono edizioni magari forse migliori per i bambini più piccoli con illustrazioni più bambinesche. Io questa la vedo assolutamente un'edizione da collezione, un'edizione dedicata a qualcuno che vuole mettere in libreria una bella edizione di Harry Potter con delle copertine mature e che abbiano un bel significato e che appunto abbiano uno studio del genere dietro che probabilmente un bambino non potrebbe comprendere più di tanto. Quindi secondo me è un falso problema questo dello spoiler però è una mia personalissima opinione e adesso passiamo al mio volume preferito di questa nuova edizione di Harry Potter 2021. Eccolo qui ragazzi settimo e ultimo libro questa volta siamo a notte fonda e troviamo il ponte di Hogwarts il ponte di Hogwarts che altro non è che il ponte della pace che si trova in Georgia negli Stati Uniti realizzato da De Lucchi è un ponte secondo me davvero molto molto bello e per un certo verso molto simile a quello anche che abbiamo visto nei film di Harry Potter secondo me un pochino lo richiama mi piace moltissimo l'utilizzo di queste luci all'interno del ponte che danno questa ambientazione molto molto drammatica molto carica di pathos secondo me a questa scena sul ponte dove abbiamo gli studenti di Hogwarts che tentano di difendere la scuola e dall'altra parte troviamo i Mangiamorte e ragazzi a me piace piace tantissimo questa copertina mi piace tantissimo questo blu così scuro in contrasto con Harry Potter scritto in oro in rilievo mi piace davvero tantissimo anche in questo caso non vediamo in volto i personaggi sul ponte e ragazzi secondo me questa è forse la più riuscita tra tutte le copertine di questa edizione o perlomeno è quella che a me piace assolutamente di più e che non smetterei mai di guardare e voglio proprio collegarmi a quest'ultimo volume a questo ponte per riprendere una frase di De Lucchi che riassume tutto il concetto che c'è dietro lo studio di queste copertine perché De Lucchi proprio ci dice che queste copertine vogliono essere un ponte tra l'immaginario collettivo e l'immaginario di ognuno di noi cosa vuol dire lo stesso De Lucchi ha detto che avrebbe potuto realizzare le copertine di Harry Potter come fanno molti artisti cioè andando a rielaborare quello che abbiamo visto nei film di Harry Potter quindi Hogwarts in stile molto gotico il ponte di Hogwarts la Stamberg a strillante la Tana cioè andare a rielaborare un po' gli stessi posti che abbiamo visto nei film un po' come ha fatto Jim Kay ad esempio nelle sue versioni illustrate come hanno fatto Mina Lima andare a rielaborare quello che già abbiamo visto nei film però appunto De Lucchi da artista qual è da designer qual è dice che ognuno di noi deve avere la propria visione del mondo di Harry Potter e io mi trovo davvero assolutamente d'accordo con lui perché io sono uno di quelli che come vi dicevo andava a comprare i libri man mano che uscivano in libreria quando io ho cominciato a leggere i libri di Harry Potter erano ancora usciti solo i primi tre io piano piano ho acquistato il quarto poi il quinto poi il sesto poi il settimo e io quando leggevo i libri immaginavo i volti dei personaggi perché non c'era nessun attore che l'aveva ancora interpretato io quando ho letto Di Malocchio Mudi non l'avevo mai visto quando ho letto La Camera dei Segreti ancora il film non era uscito quando ho letto Il Pugetero di Ackban ho immaginato La Stamberg di Astrillante ho immaginato Mielandia ho immaginato Ackban quindi assolutamente capisco cosa intende De Lucchi non dobbiamo fossilizzarci su quello che abbiamo visto nei film di Harry Potter perché quella è la visione di chi ha realizzato i film di Harry Potter ma ognuno di noi deve poter avere la libertà di immaginare quello che c'è scritto all'interno di questo libro anche se lo capisco è difficile farlo oggi perché è fortemente radicato nelle nostre teste quello che abbiamo visto nei film anche per me è difficile nonostante io abbia letto i libri prima dei film però vi ripeto provate ad andare oltre De Lucchi è andato oltre De Lucchi ci ha mostrato quello che secondo lui è il mondo di J.K. Rowling quindi non è da criticare questa è la sua visione che deve essere uno spunto per avere una nostra visione quindi spero di avervi un po' trasmesso quello che c'è dietro questa nuova edizione totalmente italiana di Harry Potter quindi realizzata apposta per l'Italia e che sicuramente so già di collezionisti americani di altri paesi che già stanno recuperando per le loro collezioni perché non è comune che un paese realizzi una propria edizione da zero nuova di Harry Potter con dei progetti grafici nuovi e chissà magari potrebbero essere riprese anche da altri paesi queste copertine io me lo auguro tantissimo ragazzi detto questo sotto trovate i commenti per poter discutere di questi volumi fatemi sapere cosa ne pensate se avete compreso meglio qual era lo scopo di questa edizione se avete rivalutato questa edizione se non siete ancora convinti se siete rimasti della vostra idea se l'avete già comprata fatemi sapere tutto sotto in infobox naturalmente trovate anche il link per acquistare questa edizione su Amazon io ringrazio ancora tantissimo per la collaborazione Salani che è stata così gentile da inviarmi questa splendida edizione che a me mi ha fatto davvero innamorare tra l'altro è la prima volta che io possiedo un'edizione completa della nuova traduzione nuova per dire visto che ormai sono passati quanto? dieci anni da questa traduzione e quindi ne approfitterò per rileggere da capo tutta la saga fino alla fine con tutte le correzioni apportate da Salani e tutti i vari nomi nuovi eccetera eccetera quindi sono molto molto curioso perché ancora non l'ho mai letto nella nuova versione ragazzi detto questo io vi saluto vi do appuntamento a festissimo con tante altre novità e naturalmente iscrivetevi al canale se non foste ancora iscritti lasciate un mi piace commentate le solite cose ragazzi sono davvero stanchissimo ho parlato per quanto non lo so tre quarti d'ora quindi adesso vado alle ciance e ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao